Grazie a tutti. L'acronimo indicativo, Charman Italian Chef, evidentemente lavorano su dei prodotti non solo di qualità ma anche di trasformazione qualitativa alta di conseguenza. Buongiorno a tutti, praticamente io faccio parte di Chic, Charming International Chef, ci hanno riuniti e siamo una sessantina di ristoranti dove pensiamo di lavorare bene, il prodotto italiano e non solo, di rendere quindi partendo dalla materia prima ottima, anche quindi l'estetica è molto importante. Quindi sappiamo che si mangia con gli occhi, quindi lavoriamo sul prodotto e lo rendiamo bello.